Giovanni Malagò presidente coni chiude la polemica con Salvini sullo use soli sportivo è folle non farlo ho rapporto importante con Matteo la pensa come me sul futuro in politica io ho parlato di use soli sportivo e credo di averne le competenze è diretto il presidente del coni Giovanni Malagò nella sua lunga intervista oggi alla stampa come aveva del resto già spiegato dopo l'incredibile doppio oro nell'atletica le olimpiadi di inizio agosto non riconoscere lo use soli sportivo in Italia ancora oggi è folle quelle frasi avevano scatenato un'immediata reazione nel leader della Lega Matteo Salvini e oggi con l'intervista sui tanti temi dello sport italiano e non solo Malagò torna sull'argomento provando a chiudere la polemica l'ex ministro aveva replicato le parole molto net di Malagò da Tokyo a 18 anni e un minuto chi ha determinati requisiti deve avere la cittadinanza italiana senza dover affrontare una via crucis che spesso fa scappare chi si stanca di aspettare spiegando come in realtà già oggi a 18 anni chiunque può chiedere ottenere la cittadinanza squadra che vince non si cambia il presidente coni al suo ultimo mandato intima invece a chi non capisce di alzare il telefono e chiedere alle federazioni quanto è complicata e lunga e piena di insidie la procedura per diventare cittadino italiano una via crucis per questo bisogna anticipare i tempi se un atleta è bravo perché deve aspettare i 18 anni ad avviare la pratica grazie a tutti